Ciao amici cripto investitori, benvenuti in un nuovo video dedicato al mondo di Terra Luna Classic. Benvenuti su Cryptovalut Italia, oggi parleremo del consueto barn settimanale di Binance e questo è un barn molto importante perché è un barn che è avvenuto dopo la proposta che è stata approvata e poi naturalmente è stata messa in opera, del barn ridotto dall'1,2% allo 0,2%. Infatti vi ricordiamo che da questo momento il barn di Binance non è più dell'1,2% per ogni singola transazione, deposito, prelievo ma come potete vedere anche all'interno di Terra Station, all'interno della sezione Dashboard possiamo vedere che l'aliquota fiscale, la tax barn è dello 0,2% quindi è stata ridotta, è stata diminuita in modo tale da poter potenzialmente aumentare i volumi, dare la possibilità all'UNC di essere listata in altre exchange che magari mettono a disposizione l'opportunità di barnare anche all'interno degli exchange l'UNC e soprattutto dare del budget agli sviluppatori e collaboratori per creare un ecosistema ricco di DAP, di NFT, del metaverso, play to earn di opportunità all'interno di Terra Luna Classic, quindi far crescere tutto l'ecosistema. Detto questo quindi ci aspettavamo di capire quale poteva essere il risultato per quanto riguarda Binance che continua con il suo meccanismo di barn che vi ricordo non è dello 0,2% o dell'1,2% ma essenzialmente come viene spiegato qui abbiamo fatto un video ad hoc lo scorso mese andato a recuperare non lo ripetiamo, però per i nuovi è importante magari dire semplicemente le cose più importanti tutti i trade che vengono effettuati all'interno di Binance alla fine di settimana, quindi quando c'è poi il periodo di calcolo questi trade, naturalmente ci sono dei trader che hanno pagato delle commissioni bene, queste commissioni Binance le converte in LUNC e poi li invia al portafoglio, quello di barn ufficiale di Terra Luna Classic quindi essenzialmente Binance va a bruciare quelle che sono le sue commissioni all'interno della piattaforma quelle che già aveva, naturalmente legate solo all'ecosistema di Terra Luna Classic e possiamo scorrere qui in basso subito e vedere che abbiamo il risultato il risultato che è avvenuto il 22, è stato calcolato il 22 ottobre 2022 ed eccolo qui Binance ha bruciato 1 miliardo 344 milioni e 794 mila Terra Luna Classic quindi diciamo che rispetto agli altri si è abbassato notevolmente nello stesso tempo l'equivalente in denaro corrisponde a 321 mila dollari che ricordo sempre ragazzi, questo comunque rispetto a quello che era a luglio Terra Luna Classic è oro colato perché comunque si sta cercando di fare qualcosa cliccando qui vi ricordo che possiamo andare a visionare quello che è stato il movimento di Binance verso il portafoglio di Barn e adesso naturalmente attenderemo il lotto 5 che ci darà la possibilità di scoprire quale sarà il prossimo Barn di Binance anche questo secondo noi è molto importante perché diciamo questa settimana è stata un po' influenzata da questo cambio ma ancora non si era assestata adesso si dovrebbe assestare questo 0,2% e inizieremo a capire che cosa succede quindi andrà dal 23 ottobre 2022 al 29 ottobre 2022 e poi naturalmente noi faremo sempre il consueto video d'aggiornamento cosa molto importante in questo momento abbiamo andiamo sul Lung Penguin abbiamo la possibilità di vedere che sono stati barnati più di 7 miliardi di Lung di Terra Luna Classic e quasi 9 milioni di USTC perché vi ricordo che vanno a barnare anche la stablecoin algoritmica dell'ecosistema di Terra Luna Classic se io vado all'interno dei top barner possiamo vedere che al primo posto abbiamo ancora Binance con 12 miliardi e mezzo di Lung barnati al secondo posto invece abbiamo la tax barn qui ripeto ancora fa vedere 1,2% ma siamo passati allo 0,2 poi bisogna capire e comprendere se decideranno di andare a modificarla questa cosa quindi di renderla 0,2 oppure separare quindi fanno vedere e sarebbe opportuno secondo noi far vedere quanto si è bruciato con l'1,2 e quanto si è bruciato con lo 0,2% e questi sono i risultati se andiamo a vedere nei top holder quindi coloro che hanno più Lung all'interno del portafoglio naturalmente abbiamo sempre al primo posto Binance sempre con un 33% come potete vedere il prezzo di Terra Luna Classic attualmente è a 0,3022,9 praticamente siamo più o meno su questo prezzo ormai da una settimana e mezza quasi due forse quindi diciamo che siamo abbastanza stabili come prezzo considerate anche che stiamo vivendo comunque un mercato ribassista abbastanza statico che comunque non riesce ad alzarsi ma al massimo ogni tanto ci sono dei dump importanti quindi comunque stiamo vivendo un bear market e di conseguenza anche un ecosistema come Terra Luna Classic che ne viene influenzato quindi magari ci aspettiamo di vedere cosa accade in un momento di bull market la percentuale in staking di guadagno in questo momento è del 10,34% che non è malvagia vi ricordo che tra le novità hanno inserito lo staking a partire da fine agosto per quanto riguarda i volumi di trading non ci siamo ancora sono ancora bassi qui abbiamo avuto un picco ma qua ci siamo abbassati ma rispetto guardate qui io vi faccio vedere la Genesis se io vado qui nel periodo che va a settembre guardate questo picco ok e guardate dove siamo adesso quindi comunque prima prima dell'implementazione di questa tax burn anche perché magari si aspettava un pump importante incredibile da parte di Terra Luna Classic molti stavano tradando proprio perché volevano acquistare Terra Luna Classic e iniziavano molti trader a speculare visto che ci sono stati comunque dei pump importanti in quel periodo pump e dump importanti quindi questa più o meno è la situazione da questo punto di vista e dobbiamo attendere naturalmente la prossima settimana il prossimo Binance Barn dobbiamo vedere cosa accadrà all'interno dell'ecosistema vediamo se apporteranno novità una cosa importante c'è stata una votazione all'interno della governance ve la faccio vedere eccola qui approvata che è praticamente abilita il deposito e la possibilità di comprare l'UNC e USTC direttamente in Terra Station sfruttando anche terze parti come Moonpay, Transac, eccetera quindi questa cosa è stata approvata come potete vedere è avvenuta la soglia di passaggio la maggior parte non ha votato si è astenuto chi ha votato sono 4 sì tra cui in Testerla Lounge che ha il 12% di voto come vi dicevo sempre quando ci sono pochi validatori che hanno tanto potere di voto questo è quello che può succedere che possono andare a scegliere come si evolve una blockchain naturalmente in questo caso è positiva come cosa perché considerate che una cosa in più che viene messa all'interno della piattaforma va bene ma se ci sono cose negative non fa mai bene quindi di conseguenza io vi consiglio di andare in validatori che non hanno questa percentuale di potere di voto ma date il voto date gli stake i vostri lung a validatori che magari hanno lo 0, qualcosa per cento analizzate naturalmente se sono buoni validatori ma evitate di dare potere troppo potere a chi è già a tanto potere e magari se avete dato potere ai vostri lung a chi ha già tanto potere una cosa che voi potreste fare per supportare la community è quello di rimuovere quindi fare l'unbounding e poi rimettere terra luna classic in staking in validatori che hanno delle percentuali quindi del potere di voto molto più basso questo naturalmente se volete che l'ecosistema possa avere un futuro decentralizzato con questo video abbiamo terminato noi ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto ciao ciao